Ho comprato una penna 3D e oggi vorrei trasformare la mia bottiglia in una tazza quindi fargli una maniglia e berla in questo modo quindi per prima cosa disegniamo una maniglia Maniglia creata ora tocca solo appiccicarla qui e eccolo, questa è una creazione incredibile mi vedo già a bere la mia bottiglia d'acqua a mo' di tazza il campione un barbuto sempre piaciuto, eccolo voglio un premio come miglior creazione dell'anno questa tutta l'aria di essere una bottiglia diventata una tazza che funzionerà non rimane altro che provarla e vedere se funziona non rimane altro che provare la mia bottiglia non rimane altro che provare la mia bottiglia